Musica Musica Facciamo un oramento oggi Preparazione per campionati europei Proviamo qualcosa tecnicamente In attacco Domani facciamo un oramento La mattina e il pomeriggio Giochiamo una partita contro la Svizzera Preparazione Dopo domani inizia il campionato europeo Se facciamo come abbiamo studiato in ultima settimana Spero andiamo al migliore quattro Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti